Aveva messo a segno un furto nel settembre del 2020 nel mirino del ladro l'abitazione di un pensionato 74enne di Moriago della battaglia. A volto scoperto aveva fatto irruzione nella casa approfittando della momentanea assenza della moglie ed aveva portato via la borsa della donna nel quale c'erano 600 euro in banconote di vario taglio. Il malvivente dopo aver rubato i soldi aveva abbandonato la borsa dettandola a terra nei pressi della porta d'ingresso della casa. Dopo il furto di lui si erano perse momentaneamente le tracce ma il volto del ladro un 38enne italiano di Colsa Martino è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza dell'abitazione. L'uomo che è stato denunciato dai carabinieri di Colsa Martino si trova recluso presso la casa circondaneare di Treviso per altri reati.